nelle famiglie, la preghiera è la sera oltre che la mattina, quando si va a letto perché poi inizia la notte che è il tempo di Satana, non trasturate questi aspetti, c'è un orario come penso saprete, alle tre di notte per cui raccomando a tutti quelli che si svegliano spesso la notte, non guardare l'orario necessario, pregate e basta pregate e basta, rimanete in comunione con Dio e se vi svegliate dite un pater noster ma c'è appunto un orario in cui Satana che beffeggia Dio, perché le tre del pomeriggio in pieno giorno è l'orario in cui Gesù è morto sulla croce, ci ha redento le tre della notte è la piena notte in cui Satana ci vuole contro redimere, no? E così allora incubi, sogni, fastidi disturbi e allora il pater noster, l'ave maria è molto importante la preghiera angelica